Ciao a tutti amici di Tecnologia su Misura, un saluto da Alessandro. Con questo video abbiamo deciso di inaugurare una piccola rubrica della durata di 8 puntate tramite cui cercheremo di spiegare con un linguaggio semplice l'hardware che nel suo insieme costituisce un computer. Con questa serie ci proponiamo non solo di spiegarvi come leggere i parametri tecnici di ogni singolo componente hardware ma anche di fornirvi gli strumenti principali per poter effettuare solo acquisti consapevoli. Nel corso di questo primo episodio tratteremo la CPU. Come è noto il processore costituisce il cuore e il cervello di ogni computer. Il suo compito consiste nell'eseguire diversi calcoli di natura aritmetico-logica essenziali per poter eseguire i programmi. Quando si vuole assemblare un computer il processore a nostro parere dovrebbe essere il primo componente ad essere scelto e la scheda madre e la RAM dovranno adattarsi di conseguenza. Quando andiamo ad analizzare ciascun modello di CPU balzano subito agli occhi alcuni parametri tra cui la frequenza, il numero di core, il numero di thread, la cache, il TDP. E ora andremo ad analizzare ogni singola voce nel dettaglio. Partiamo dalla frequenza. Espressa in Hz indica il numero di cicli eseguiti in un secondo. Un GHz corrisponde a un miliardo di cicli al secondo. Durante ciascuno di essi vengono eseguite le microistruzioni fondamentali che nel loro insieme eseguono le operazioni stabilite dal programma. I processori AMD e l'Intel serie K tramite opportuni settings da BIOS supportano l'overclock ovvero è possibile aumentare la frequenza operativa e quindi il numero di cicli consentendo di aumentare la velocità di esecuzione dei programmi. Il numero di core indica il numero di unità fisiche di calcolo che compongono la CPU. Per threads si intendono una serie di segmenti in cui è scomponibile un processo per permettere un'efficienza maggiore nell'elaborazione dati. Dunque per numero di threads, quando si leggono le caratteristiche di un processore si intende il numero di segmenti che sono elaborati simultaneamente. Normalmente questo coincide con il numero di core della CPU. Tuttavia Intel ha ideato una feature detta Hyperthreading che possiamo ritrovare sui processori i3 e i7 e al momento attuale consente una gestione di threads doppie rispetto ai cores disponibili. Ad esempio i processori i7 dispongono di 4 cores fisici ma possono elaborare fino a 8 threads. La frequenza e il numero di cores non sono gli unici parametri che influenzano le prestazioni di una CPU ma un processore per lavorare ha bisogno di importare i dati dalla RAM. Essendo la RAM una memoria molto lenta rispetto alla frequenza della CPU questa introduce un collo di bottiglia considerevole al sistema. Per limitare questo svantaggio all'interno del chip della CPU è stata introdotta un tipo di memoria estremamente veloce ed efficace detta cache. All'interno della cache vengono copiati in maniera opportuna una piccola porzione dei dati presenti nella RAM. Quando il dato che la CPU deve elaborare è già presente in cache le latenze saranno quasi completamente annullate perciò la CPU non dovrà sempre attendere la risposta della RAM. Quando si legge ad esempio cache L3 significa che la cache è composta da diversi strati o possiamo chiamarli livelli e che stiamo leggendo quello più esterno. Ciò significa che saranno presenti altri due livelli L2 e L1 sempre più piccoli ma più vicini ai cores. Insomma una cache ampia e stratificata in sostanza conta tanto quanto una buona frequenza di calcolo. Come ultimo parametro abbiamo il TDP che è un acronimo che sta per Thermal Design Power ed indica la quantità di energia espressa in Watt che il sistema deve smaltire perché la temperatura del processore rimanga entro una soglia di sicurezza. Sebbene questa sia solo una definizione parziale possiamo considerare il TDP un valore proporzionale al consumo energetico del processore cioè conoscendo il TDP ci possiamo fare un'idea indicativa del consumo stesso. Per avere informazioni attendibili sull'efficienza energetica di ciascun processore possiamo trovare una recensione autorevole approfondita tra quelle proposte ad esempio dalla redazione di Tom's Hardware. Oltre a questi parametri che abbiamo indicato un altro elemento importante è quello della grafica integrata del processore. Se non si pretendono dal proprio computer prestazioni grafiche eccellente è infatti possibile basarsi appunto su questa grafica integrata e in questo modo si potrà risparmiare una considerevole quantità di denaro. La grafica integrata dei processori risulta ottima non tanto per giocare ma soprattutto per gestire la riproduzione dei file multimediali anche in Full HD. Per sfruttare la grafica integrata è bene accertarsi non solo che il processore supporti questa funzionalità ma anche verificare che il chipset della scheda madre la supporti. Attualmente alcuni dei processori che godono di una grafica integrata sono i processori Sandy e Ivy Bridge nonché la APU AMD. Abbiamo esaurito così le principali caratteristiche tecniche che riguardano la scelta di un processore e non ci rimane che tirare le somme. Allo stato attuale non possiamo fare altro che consigliare i processori marchiati Intel in particolar modo i prodotti Ivy Bridge che sono in grado di unire ottime performance a consumi contenuti. La maggior parte è dotata di grafica integrata e Turbo Boost anche se solo quelli della serie K sono overclockabili. Per chi gioca sporadicamente ma fa grande uso di contenuti multimediali oppure usa il PC quasi esclusivamente per navigare possiamo consigliare i processori Ivy Bridge i3 che è in particolar modo il modello i3-3220 o i3-3225. Per chi ha il gaming come prerogativa ma deve mantenere il costo della propria configurazione mentre un budget limitato consigliamo i5-3570K e infine per chi è propenso a lavori di editing, rendering e ripping l'ideale è orientarsi invece sul top della famiglia i7 per socket LGA-1155 ovvero orientarsi sull'i7-3770K e chi invece cerca di voler realizzare workstation professionali è difficile prescindere da un Intel Xeon. Chiudiamo quindi questo video augurandoci che sia stato di vostro gradimento e vi rimandiamo alla prossima puntata dove tratteremo i fattori che influenzano la scelta di una scheda madre. Un saluto a tutti.